e salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video bene ragazzi sono tornato dalle vacanze e andiamo avanti con Dragon Ball Budokai Senkaji 2 quindi buona visione oh era tanto che avevo voglia di fare questa serie di continuarla ok iniziamo dalla grande ah prima faccio un attimo l'evoluzione ma lui le mette solo vediamo ok niter non ne ho quindi metto vitalità 1 e iniziamo la lotta vediamo qua di comincarli allora comincarli circa 6 7 8 9 10 11 12 doviti doviti eh sì noi andate beccati questo ah è un 2 contro 2 va bene ok 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 Allora, whaaaaat, no Fate un bel volo, va Cavolo Il modo di trattare è sempre difficile rispondere a questi attacchi a in petto Lo stesso per le onde energetiche Colpo finale Ok, si è salvato Ma questo non sfuggirà Ecco fatto Però È riuscito anche il pugno a in petto Ammirevole Vediamo col secondo come va Minchè è fattuto al massimo Non sarà facile per questo Piano terra No Ecco fatto Beccati questo È finita Oh boh Molte cose che dico è finita Questi qui erano sempre potenti andare a dire Vedete che non lo dico più, va Io non sono sicuro Ok, vediamo un po' Benissimo Tutti sarei di livello Mi fa comodo Almeno quel battimentino saranno Noiosi come Regi in Brasta Cioè in Boost Limit Vabbè quello che è Vabbè 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 Ok, salvo E si va avanti Bene No No Dimmi che devo affrontare tutti da solo Oh cavolo Uno contro quattro Raga Questa non sarà una lotta facile Veramente non sarà facile Vabbè Sono pronto a tutto E al peggio Fatemi sotto Beccate questo E Peter arrivò Il lancio Il lancio del pizza A domicidio Abbiamo finito in fretta La fortuna è che non sono molto veloci Dopo presto Maledizione Beccati questo Ma non ti chiedo Neanche io l'ho beccato E per i seti E per i seti Ma non è l'ho beccato Ma non è l'acido Ma non è l'acido Ah si ritira il codardo Ok Proviamo a continuare Con una mossa suprema E cercare Devo Poi dobbiamo cercare di evitare i colpi Più più possibile Ma non è facile Si Ok Sono quasi Si Sei il mio Va beccati questo Bene a terra E Tac No 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 Meno male Fuori uno Cavolo Doveva essere ancora tre Vabbè Meno uno è danneggiato Bella Ok Errore Dall'angolo Cavolo Avevo fatto poco di danno Ok Anche il secondo È sistemato Posso fartela Ecco Quello Meno Ha dato Che ho Conzato E Ultimo Leccati questi Che si Fai pure tanto Oh Oh Le materi Ci tua Così che annullo tutto Bravo Ok Adesso è solo uno Che fatica Ma è stato faticoso Per un po' Ma poi Tutto bene Bene Livello 20 Perfetto Ok Uno Due Tre Quattro No Quattro Cinque E adesso Cinque Oh Cavolo Dove sembra Ancora Napa Beh ragazzi Questo episodio Finisce qui Quindi Ci rivediamo Ad affrontare Napa Quindi Alla prossima Ciao Ciao